Sindaco del Deo, avete chiesto un'anticipazione di cassa di circa 7 milioni, quindi una situazione economica un po' difficile alla vostra. Ma le situazioni economiche dei comuni le conosciamo tutte. La situazione economica nostra è una situazione che è stata raddrizzata perché noi abbiamo tolto 6 milioni e mezzo di debiti. L'anticipazione di cassa non è altro che l'elasticità di cassa e un'operazione contabile corrente che fanno tutti i comuni e poi mano a mano si rientra e si recupera. Perché l'altra soluzione è quella di aumentare le tasse sui cittadini. Siccome in un momento di crisi come questo, dove la gente non riesce più a mettere il piatto a tavolo, non riesce a pagare il limo, la spazzatura, la luce, Noi anziché premere sul cittadino preferiamo fare un'anticipazione di cassa per brevi periodi per poter rientrare. Perché noi abbiamo pagato 6 milioni e mezzo, abbiamo ridotto gli interessi su un altro mutuo di 6 milioni e mezzo. Quindi sono tanti soldi che si sono risparmiati. È un'operazione corrente che qualcuno la pone come un'operazione disastrosa. Andiamo a vedere gli altri comuni che cosa fanno. In effetti gli altri comuni si comportano allo stesso modo. Ma moltissimi comuni ricorrono a questo. Perché l'alternativa è aumentare le tasse ai cittadini. Noi pensiamo che i cittadini sono già troppo pressati dalle tasse e preferiamo fare l'anticipazione di cassa e poi dopo continuare a fare tagli come abbiamo fatto fino ad ora.